Ciao a tutti ragazzi, buon Natale! Oggi è mercoledì ma non uscirà un tutorial come sempre perché oggi è festa e ho deciso di non rompervi la niente con un tutorial ma di farvi gli auguri Allora, sì, vi ringrazio perché siete tantissimi ultimamente e mi commentate comunque una community veramente attiva e a me piace tantissimo, quindi vi ringrazio Quindi questo video lo faccio non da due partitaggi ma per ringraziarvi perché mi piace un sacco tutto che state commentando e stiamo creando una vera community anche se siamo pochini ancora ma mi va benissimo perché così posso ringraziarvi quasi personalmente Come vi ringrazio? Bene, ora a schermo qui da questa parte qui appariranno i nomi degli ultimi hanno aumentato i primi leggerò e poi andranno a schermo e vi devo veramente ringraziare perché siete stati gentilissimi Parto dall'ultimo che è Alessandro Torismi ne approfitto anche per risponderti Alessandro, ho un sacco di patini in cui utilizzo quelli del video sono dei Seba FR1 o nel nuovo modello si chiamano FR Skating sempre FR1 Detto questo ti fa tanti auguri di buon Natale Maurizio, tantissimi auguri di buon Natale anche a te Dopodiché Brut Salvadis spero che lo pronuncio bene anche a te tantissimi auguri di buon Natale Scatafossi tantissimi auguri di buon Natale di cuore sei veramente un grande ti stimo tantissimo sei stato il primo comunque a commentare a farmi domande anche a fare un dibattito è veramente mi fa un sacco di piacere Frame ti ringrazio anche a te tantissimi auguri di buon Natale Dario Ti auguro un buon Natale Francesco un buon Natale Girolamo un buon Natale Il Micio un grandissimo auguri di buon Natale anche lui è uno degli utenti che mi ha cominciato a commentare dall'inizio quindi ti ringrazio anche a te Micio Gasparo anche a te tantissimi auguri di buon Natale Not4 Normals anche a te tantissimi auguri di buon Natale scusatemi se mi impappino al letter ma per me è un video nuovo questo qui Zio Bleed tantissimi auguri Alessandra tantissimi auguri anzi mi ha fatto piacere comunque abbiamo anche comuniato e chattato informazioni dei suoi parti prima o poi riusciamo a partire insieme giuro Francesco ancora tantissimi auguri Gianni tantissimi auguri fai da te Harry Pizzato tantissimi auguri di buon Natale anche a te Irina tantissimi auguri di buon Natale Paccio Game tantissimi auguri di buon Natale Riusco tantissimi auguri di buon Natale potrò un po' riuscire anche ciao Davide auguri di buon Natale arriverà anche Chiara anche Chiara gli faccio un sacco di auguri personalmente anche lei ha iniziato a seguirmi quasi all'inizio mi fa tantissimo piacere Scadita anche te tantissimi auguri di buon Natale eccola qua Chiara ti ringrazio tantissimo tantissimi auguri di buon Natale ok continuo a farvi scorrere più laterale tutti voi continuando un altro po' e io vi ringrazio tantissimo e sono veramente felice di una community così anche se piccolina anche se all'inizio a me fa comunque piacere un sacco anzi quasi preferisco così che almeno posso ringraziarvi farvi gli auguri quasi come se ci conoscessimo e detto questo ora vi lascio però degli sketch che ho fatto con i patini un po' carini in questi nove mesi in cui ho aperto il canale detto questo io vi ringrazio e ci vediamo un po' con i tuori al venerdì un'altra ora sul ghiaccio e poi settimana prossima ripartiremo in tuori al classico e normale ragazzi ci vediamo ora vi lascio all'immagine di questo video montato e a presto ragazzi un bacione ciao 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 Ancora, l'animo antico. L'animo, l'animo, l'animo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno e uno, quindi vedremo di papere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.